Alla fine della guerra fredda, quando l'Europa stava ancora cercando un equilibrio tra est e ovest, dall'altra parte del mondo il Giappone portava a compimento uno dei suoi progetti militari più ambiziosi. Un carro armato moderno, sofisticato e interamente nazionale, pensato per affrontare una minaccia concreta e vicina, quella sovietica. Attraverso un esame dettagliato della sua storia, delle sue innovative caratteristiche tecniche e del suo impiego operativo scopriremo come questo mezzo abbia saputo coniugare la tecnologia d'avanguardia con l'esigenza di proteggere il territorio nazionale. Per capire il perché del Type 90 bisogna tornare indietro nel tempo, nella seconda metà degli anni 70. Il Giappone, reduce da decenni di ricostruzione postbellica e ancora vincolato da una costituzione pacifista scritta sotto supervisione americana, osservava con crescente attenzione ciò che accadeva al di là del mar del Giappone. L'Unione Sovietica, con le sue enormi divisioni corazzate, i suoi moderni T-64, T-72 e poi T-80, destava una certa preoccupazione a Tokyo. Non si trattava solo di un timore ideologico, l'isola di Hokkaido, la più settentrionale dell'arcipellago nipponico, era ritenuta vulnerabile ad uno sbarco meccanizzato sovietico, soprattutto data la sua vicinanza geografica alla Siberia orientale. In quel periodo il carormato principale delle forze di autodifesa giapponesi era il Type 74, progettato per contrastare le minacce degli anni 60. Tuttavia, già pochi anni dopo la sua entrata in servizio, quel mezzo appariva superato sia in termini di corazza che di armamento. Fu così che nel 1976 il Ministero della Difesa e il cosiddetto TRDI, ovvero Technology Research and Development Institutes, approvarono l'avvio di uno studio per un nuovo carormato che potesse garantire superiorità qualitativa rispetto ai veicoli avversari. L'obiettivo era chiaro, sviluppare un carro che potesse operare efficacemente nelle particolari condizioni geografiche del Giappone, offrendo al contempo prestazioni comparabili, se non superiori, ai principali ambiti occidentali come il Leopard 2 e l'M1 Abrams. Fu la Mitsubishi Heavy Industries, già costruttrice del Type 74, a ricevere il compito di sviluppare i prototipi. Ma a differenza del passato, questa volta il Giappone voleva un salto generazionale, non un semplice miglioramento, ma un carro dotato delle tecnologie più avanzate dell'epoca. Per questo motivo venne fin da subito prevista l'adozione di un cannone da 120 mm, una novità assoluta per l'industria nipponica, e di un caricatore automatico, una soluzione che avrebbe consentito di ridurre l'equipaggio da 4 a 3 uomini. Il primo prototipo del nuovo carro armato, chiamato TKX, fu completato nel 1982. Questo primo veicolo sperimentale utilizzava ancora un cannone giapponese da 120 mm, progettato da Japan Steelworks. A questo poi seguirono nel 1985 e nel 1986 nuovi prototipi. Il secondo importante passo riguardo proprio a questi due mezzi fu la decisione di adottare in licenza il cannone tedesco Raimental L44 da 120 mm già montato sui Leopard 2. I test furono lunghi e minuziosi, il Giappone non aveva intenzione di scendere a compromessi. Si verificarono le prestazioni balistiche, la resistenza della corazza modulare, l'efficacia del caricatore automatico e soprattutto i nuovi sistemi di controllo del fuoco. Un elemento cruciale era la mobilità, il nuovo carro doveva poter operare su terreni montuosi, risaie, sentieri boscosi e zone innevate. Fu così che venne sviluppata la sospensione idropriumatica regolabile, una tecnologia già vista sul Type 74 ma ora migliorata radicalmente. Ma un altro aspetto fondamentale fu il peso del mezzo. Mentre gli altri MBT occidentali raggiungevano e superavano addirittura le 60 tonnellate, il Type 90 doveva rimanere più leggero per non compromettere la viabilità sulle infrastrutture giapponesi. Ponti, viadotti e strade non avrebbero retto infatti il passaggio continuo di mezzi ultrapesanti. Il limite fu fissato attorno alle 50 tonnellate, un compromesso fra protezione e mobilità che portò a un design più compatto, con torretta più bassa grazie proprio all'adozione del caricatore automatico. Tra il 1986 e 1989 vennero completati 6 prototipi evolutivi, che incorporarono quindi tutte le migliorie emerse durante i test. Solo alla fine di questo processo, rigorosamente nazionale, si arrivò quindi alla versione definitiva. E siamo quindi nel 1990, anno in cui il Type 90 per l'appunto fu ufficialmente adottato dalle forze di autodifesa giapponesi. La produzione, condotta dalla Mitsubishi, iniziò subito con 30 unità prodotte già entro la fine dell'anno stesso. Ma i tempi erano cambiati, l'Unione Sovietica stava crollando, la guerra fredda era praticamente finita e anche il Giappone si ritrovava in piena crisi economica dopo lo scoppio della bolla speculativa immobiliare. Il risultato? I fondi per la produzione del Type 90 vennero ridotti drasticamente. Alla fine furono costruiti solo 341 esemplari fino al 2009, con la produzione interrotta a favore del successivo Type 10, più leggero e adatto anche all'impiego al di fuori di Hokkaido. Nonostante questo, il Type 90 ha rappresentato un punto di svolta per l'industria bellica giapponese, il primo carro armato realmente comparabile per capacità e tecnologia ai migliori MBT occidentali. A prima vista il Type 90 potrebbe sembrare un Leopard 2 un po' più compatto, ed in parte è così. Il carro giapponese condivide con il collega tedesco non solo l'aspetto esteriore, ma anche il cuore dell'armamento. Ma dietro quella sagoma familiare si nasconde un concentrato di tecnologia pensata per uno scenario ben preciso, difendere il territorio giapponese da una minaccia meccanizzata con rapidità, precisione e superiorità qualitativa. Partiamo dunque dallo scafo, e più nello specifico delle sue particolari sospensioni. Uno dei tratti distintivi del Type 90 è infatti, come abbiamo detto, la sua sospensione idropneumatica attiva, derivata dal Type 64 ma portata a un nuovo livello. Ogni ruota può essere regolata in altezza individualmente, permettendo al carro di abbassarsi, alzarsi, inclinarsi avanti o indietro e lateralmente. Questo non solo aiuta a stabilizzare il tiro, ma consente al carro di adattarsi al terreno, passare sotto ostacoli, migliorare l'angolo di tiro in salita o in discesa e aumentare il comfort dell'equipaggio. Tengo a dire però che non è una tecnologia unica adottata solo dai giapponesi, in quanto già col progetto in BT70 si vide l'implementazione di questo sistema. Il motore poi è un diesel Mitsubishi 10ZG32VT V10 da 1500 CV, abbinato a un cambio automatico a trasmissione integrata. Questo permette al Type 90 di raggiungere una velocità massima di circa 70 kmh su strada, con una mobilità sorprendente per un carro armato di quasi 50 tonnellate. Nonostante la potenza, il motore è noto per la sua silenziosità e affidabilità, due caratteristiche importanti nella dottrina giapponese che privilegia la reattività e la resistenza tecnica sul lungo periodo. I suoi vari scompartimenti invece sono caratteristici di un qualsiasi carro standard, avente quindi il pilota nella parte frontale del mezzo, la camera di combattimento con la torretta al centro del veicolo e lo scompartimento del motore sul retro. Passando ora alla torretta, diciamo che il Type 90 è armato con un cannone a canna liscia da 120 mm L44, prodotto su licenza in Giappone dalla Japan Steel Wars. Un'arma quindi che può impiegare tutte le munizioni Nato standard, ovvero APFSDS, HEAT, HE e così via, e che garantisce una potenza di fuoco in linea con i principali MBT occidentali. Ma la vera novità non è tanto il cannone, quanto il modo in cui viene gestito. A differenza della maggior parte dei carri inato, il Type 90 è dotato di caricatore automatico, una soluzione più comune magari sui carri sovietici e francesi. Questo sistema, collocato nella parte posteriore della torretta, consente una cadenza di tiro elevata e costante con tempi di caricamento intorno ai 4 secondi, e che soprattutto permette di ridurre l'equipaggio da 4 a 3 membri, ovvero comandante, cannoniere e pilota, abbassando il profilo della torretta e rendendo il carro meno visibile sul campo. Oltre al cannone poi, come tutti i carri del resto, ritroviamo anche le consuete mitragliatrici ad uso anti-fanteria o anti-aerea. La prima di queste armi è la Type 74 da 7,62, basata sulla FN MEG belga e posizionata coassialmente al cannone. Essa è utilizzata per l'ingaggio di bersaghi leggeri, per il tiro di soppressione o a volte per calibrare il fuoco prima di sparare con il cannone principale. La posizione coassiale consente una grande precisione, perché la mitragliatrice sfrutta lo stesso sistema di puntamento del cannone. La seconda arma invece è una mitragliatrice pesante Browning M2 HB da 12.7 mm, rimontata su un supporto manuale sopra la torretta, proprio in prossimità del portello del comandante. Questo tipo di installazione è comune su molti MBT e nel caso del Type 90 svolge un ruolo importante nella difesa anti-aerea tattica e nella protezione contro bersaghi in elevazione, come fanteria posizionata su edificio o colline. Essendo montata esternamente, la M2 è azionata manualmente e non remotizzata, il che rappresenta una piccola limitazione operativa. In situazioni di combattimento, l'uso di quest'arma quindi espone il comandante al fuoco nemico, per intenderci. Tuttavia, il campo visivo eccellente offerto dal posto di comando e la potenza della M2 la rendono uno strumento estremamente utile per combattimenti urbani a scenario montano, due contesti molto presenti nel teatro operativo giapponese. Se avete visto il mio precedente video sul Type 61, il primo MBT giapponese dopo la guerra, saprete sicuramente che uno dei grandi problemi cronici dei carri nipponici è la loro protezione. Questa mancanza è dovuta anche alla dottrina di questi veicoli, in quanto dovevano rimanere relativamente leggeri per superare le infrastrutture giapponesi che sono caratterizzate per lo più da piccoli ponti o strade non adatte a reggere chissà quanto peso. E anche il Type 90 non fa eccezione in tal senso, essendo comunque più corazzato mediamente rispetto al Type 74 e ancora meglio rispetto al Type 61. Utilizza una corazza composita modulare sviluppata interamente in Giappone, i cui dettagli sono ancora oggi classificati. Non si tratta di una corazza reattiva né particolarmente spessa rispetto ai carri occidentali contemporanei, ma è stata studiata per offrire un ottimo equilibrio tra protezione e leggerezza. Inoltre la torretta è abbastanza compatta, riducendo quindi la superficie esposta. Alcune fonti suggeriscono la presenza di strati ceramici o materiali avanzati simili a quelli utilizzati sui carri M1 Abrams o Challenger 1, ma queste informazioni non sono mai state ufficialmente confermate. Anche se non attivamente pensato per il combattimento in Network Centric Warfare, ovvero la guerra elettronica, come il successivo Type 10 farà, il Type 90 fu uno dei primi carri a impiegare computer di bordo per il coordinamento tra veicoli e con la fanteria meccanizzata. In particolare nei reggimenti corazzati di Hokkaido, essendo dunque dotato di sistemi di comunicazione e gestione del campo di battaglia avanzati. Il caro protagonista del video è un mezzo progettato per combattere in una guerra che, fortunatamente, non è mai avvenuta. Nato per difendere il Giappone da una potenziale invasione sovietica durante gli anni finali della Guerra Fredda, questo mezzo non ha mai preso parte ad un vero conflitto. Tuttavia la sua distribuzione, il modo in cui è stato schierato e impiegato nelle esercitazioni e persino i limiti logistici che ne hanno influenzato la diffusione raccontano molto sulla dottrina militare giapponese. Il Type è stato schierato esclusivamente sull'isola settentrionale di Hokkaido, la regione più vicina alla Russia e il punto più vulnerabile a un'ipotetica offensiva meccanizzata proveniente dal continente asiatico. Qui sono stati schierati tutti e 341 gli esemplari prodotti tra il 90 e il 2009, suddivisi principalmente tra i reparti corazzati della settima divisione delle forze di autodifesa terrestri. L'unica divisione completamente meccanizzata del Giappone. Questo impiego esclusivo risponde a due logiche ben precise, la prima è che Hokkaido era considerata il possibile primo fronte in caso di conflitto con l'Unione Sovietica e successivamente con la Russia, e in Secundis abbiamo un tassello quasi mai considerato quando si parla di questi argomenti, la logistica. Il Type 90, pur essendo più compatto rispetto a molti carri occidentali, presenta comunque dimensioni e peso che ne rendono difficoltoso il dispiegamento nel resto del paese, dove le infrastrutture, ovvero ponti, strade e gallerie, non sono sempre adeguate al transito di veicoli pesanti. Questo limite è uno dei motivi principali per cui il Type non è mai stato adottato su scala nazionale e ha costretto le forze di autodifesa a mantenere in servizio anche il più leggero Type 74 fino all'entrata in servizio del più moderno e mobile Type 10. Pur non avendo mai partecipato a operazioni belliche, il Type 90 è stato ampiamente impiegato in esercitazioni congiunte sia interne sia internazionali. Ogni anno, ad esempio, durante le grandi manovre della JGSDF, ovvero Japan Ground Self-Defense Force, in Hokkaido, come le esercitazioni Yamasakura o Northern Viper, il Type in questione viene testato in scenari di guerra simulata ad alta intensità, in condizioni ambientali spesso proibitive, ovvero neve, fango, terreno montuoso, e da queste prove si è dimostrata l'eccellente precisione del sistema di tiro, la buona affidabilità meccanica anche a basse temperature, e soprattutto la capacità del carro di ingaggiare bersagli multipli in rapida successione, grazie al caricatore automatico e al sistema di tracciamento del bersaglio. Col passare del tempo, tuttavia, questo carro ha mostrato alcuni limiti d'adattamento al nuovo contesto operativo post-guerra fredda. La sua architettura, ottimizzata per un conflitto convenzionale, è meno efficace in scenari asimmetrici, urbani o anti-guerriglia. Inoltre, l'assenza di protezione contro mine, IED o minacce dall'alto, come i droni armati, ha ridotto il suo valore strategico negli anni 2000. Oggi il Type 90 resta in servizio attivo, ma il suo ruolo è sempre più marginale. Non sono previsti aggiornamenti radicali né retrofit significativi. Il mezzo dunque viene mantenuto sì efficiente, aggiornato a livello software e ancora utilizzato per l'addestramento, ma non è destinato a diventare il cuore delle forze corazzate del futuro. Il Type 10 ha già cominciato a sostituirlo grazie alla sua maggiore versatilità, minor peso e integrazione dei nuovi sistemi di comando e controllo digitali. Tuttavia, fino a quando la settima divisione continuerà a operare in Hokkaido, il Type 90 rimarrà un elemento centrale della sua componente corazzata, pronto a intervenire in caso di necessità. Tirando quindi un attimo le somme, possiamo dire che il Type 90 non è mai stato protagonista di una battaglia, né avvarcato mai i confini del Giappone, eppure rappresenta uno dei più raffinati esempi di ingegneria bellica della sua epoca. Un carro pensato non per l'attacco, ma per la deterrenza, non per dominare terre straniere, ma per proteggere le proprie. Incarna l'essenza della dottrina giapponese, precisa, riservata, implacabile quando necessario. Un gigante silenzioso, frutto di una minaccia mai concretizzata e di una preparazione che non ha mai smesso di essere seria. Oggi, mentre nuove generazioni di carri avanzano, il Type 90 resta lì, a ricordarci che anche le guerre mancate lasciano i loro monumenti d'acciaio.